Buon Natale e tra un po' buon anno. Quello che vedrete tra poco non è una rappresentazione classica del presepe con i lavori. C'è un po' buon attrazione classica, ma per noi è tutto vero, ma per noi è tutto vero. Quando vedremo un dio che si fa bambino, è un bologo che si fa bambino che ha bisogno che l'uomo di una donna di una donna di una donna. Dio ha scelto di venire ad abitare nel grembo di una donna. E' venuto tra noi così, povero, in una grotta. E questa storia stasera ce la racconta San Francesco. E' stato lui il primo a volere il presepe. E' stato lui il primo a volere il presepe. Il primo a volere il presepe. Con noi stasera ci sono anche più di cinquanta tra bambini e ragazzi. Il presepe. Il presepe. Il presepe. Non dico altro, vedrete perché. Il Prestiglio. Diciamo solo un'Ave Maria in sé. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te tu sei benedetta, cari donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte, amico io ho presentato Gesù, 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 Gesù Ani, Gesù da crema un bambino Sania, Gesù, 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 Ges Dai, loggi, loggi ti, dai, niente ti, loggi, uscali poco toglie, loggi il mio, Isus, qui in una grotta come questa è nato Gesù, Mare di Isus, Isù di Bethlehemma, Gesù di Bethlehemma. Viene un anggio, il caso di Isus e sua madre, un anggio di Gabriele, a padre della mamma di Gesù, che è stata la buducia di Ossipo a Gesù, che è la promessa sposa di Gesù. Siete, sennate il cacosensuale? Viene, vada se Maria, si si Maria, si chiama Maria. Dai, dai, salva da se Maria, si, bravi, si chiamava Maria. Satsua, la sua esperienza. Adesso vi racconto tutto. Posso uscierti a raccontarvi. Sipo a Gesù, che è la tua biazza. Chiama Maria. Sipo a Gesù, che è la sua riposta. Chiama Maria. Chiama Maria. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 che. che è un bambino. a tutti. 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 a tutti.